Al momento loro non gareggiano ancora per questa disciplina, al momento gareggiano solo per le danze latinoamericane, ma appena saranno pronti faremo anche le gare di ballo liscio e danze standard. Elisa e Mattia ci presentano una mazzurca. Mattia ci presentano una mazzurca. Mattia ci presentano una mazzurca. Bravissimi Elisa e Mattia, loro vengono da Genova, ballano nella categoria 12-13 anni B3. Un grosso applauso per Elisa e Mattia. Grazie.